Ciao, una figura molto importante per me, che mi ha appassionato all'architettura, a questi argomenti, e poi appunto mi ha fatto fare anche la tesi delle superiori, ho portato, insomma, ne conoscevo abbastanza la vita e le opere, per cui iniziamo da Renzo Piano. Niente, come ho detto, non voglio entrare troppo nello specifico, spero di dare una panoramica così generale della sua vita, delle sue opere, e un po', insomma, come riconoscerle. Comunque, Renzo Piano nasce a Genova, 1937, da una famiglia di costruttori, questo fa sempre un po' passare come un po' il raccomandato, il ricco, che comunque aveva già la strada assegnata. In realtà, forse è stato anche un po' più coraggioso, perché avrebbe potuto avere, insomma, un lavoro abbastanza facile nell'azienda di famiglia, ma in realtà è stato sin da sempre abbastanza ribelle. Ecco, questo concetto, nonostante adesso le interviste che si vedono, lui molto tranquillo, pacato, insomma, non avrei mai pensato di considerarlo un ribelle, in realtà penso che veramente, ascoltando delle interviste, insomma, un po' più approfondite, che azzarda molto, ecco. E questo l'ha reso Renzo Piano, insomma, l'ha reso un architetto veramente molto famoso e credo, a mio parere, il più famoso italiano nel mondo, attualmente. Quindi, piccola biografia, vabbè, studia inizialmente a Firenze, pochi, tutti sanno che ormai, insomma, si è laureato al Politecnico di Milano, perché effettivamente l'ha finito lì, si è laureato, e ha anche attualmente delle relazioni più strette, proprio sta, a tal riguardo, sta progettando e stanno costruendo un ampliamento della sede del Politecnico di Milano. E poi ci sono state anche varie interviste, si possono trovare su internet, proprio organizzate dal Politecnico, per cui sembra che c'è stata sicuramente una relazione molto più stretta, però dobbiamo ricordare che ha iniziato a Firenze e poi si è spostato a Milano. Però la formazione o il suo stile architettonico non sono state definite dall'università o dalla formazione accademica, ma bensì da tanti viaggi che ha fatto successivamente alla Laurean. Si ha viaggiato molto, questo lo caratterizza, lo si dice sempre nelle interviste, dice anche sempre di viaggiare, consiglia a tutti di viaggiare tanto per poi ritornare in Italia, nonostante lui, penso che vivi più all'estero che in Italia, però comunque avere sempre un occhio riguardo per l'Italia come paese d'origine. che se penso lo inorgoglisca anche parecchio, perché insomma non abbiamo di cose da essere orgogliosi. Comunque quindi viaggia tanto, Stati Uniti, ma penso secondo me la più importante è quando sta a Londra dove conosce Richard Rogers, perché sicuramente il salto di qualità di Renzo Piano è quando fondano il loro studio con Richard Rogers e poi vincono il concorso per il Centre de Pompidou a Parigi, che è un'architettura provocativa, una provocazione, che appunto si sente da varie interviste che voleva essere più una cosa concettuale che in realtà non avrebbero mai pensato di vincere il concorso. Invece lo vincono e sono anche stati in grado di realizzarlo, rendendo, facendo sì che diventasse un'icona dell'architettura contemporanea, con i suoi pregi, i suoi difetti, perché insomma è un'architettura molto provocatoria, è il termine più giusto che mi sembra da dire, perché si trova in pieno centro di Parigi, in un contesto storico, con appunto abitazioni di una certa epoca, e questo edificio sicuramente non c'entra niente, anche se ho già più volte detto il contesto è molto importante, e anche per Renzo Piano il contesto normalmente nelle sue architetture è importante, contribuisce alla definizione del progetto, in questo caso assolutamente no. Poi è anche insomma opinabile come architettura da un punto di vista funzionale, non come interni, come interno è molto flessibile, per cui come concetto per un museo era anche innovativo e funzionale, ma all'esterno, mi ricordo di aver letto che ci sono delle cifre sorbitanti per la manutenzione, perché non ho detto, ma in questo caso è un'architettura che si è definita high-tech, è uno stile di architettura che è proprio nata in quegli anni, proprio per quello insomma hanno definito molto in particolare l'architettura di Renzo Piano, e quello che dicevo del viaggio in Inghilterra, perché ricordiamo che anche poi successivamente che si dividono, anche Renzo Piano continua ad avere un'influenza dell'architettura high-tech di questo stile, Richard Rodgers identico, e anche Norman Foster che tra l'altro era amico di Rodgers, non so se anche con Renzo Piano però mi ricordo una foto dove ci sono loro con anche altri architetti, altre persone, ma loro insomma sono poi quelli che si sono fatti conoscere di più. Quindi vabbè, in ogni caso, da questo si fa conoscere, da questa architettura però, è riuscito anche ad evolversi, non rimanere su questo stile, che comunque hanno inventato loro, loro, questo gruppo, non solo Renzo Piano, in questa corrente che c'era anche dentro Renzo Piano. E se appunto esattamente chi fosse il primo, quale fosse l'architettura, è stata costruita prima o dopo, non lo so. Sicuramente il centro del Pompadour può essere considerato uno degli esempi più importanti. In ogni caso riesce a superare insomma questo stile e crea un suo proprio stile, che vedendo un po' di sue opere penso di poter sintetizzare che si adatta abbastanza al luogo e riesce a trovare delle varie peculiarità che caratterizzano il luogo, appunto il contesto in cui si trova o insieme alle sue ideali di un'architettura leggera vanno a creare un connubio per cui crea il suo stile architettonico. Sicuramente all'inizio della sua carriera è molto influenzato da strutture molto leggere, sperimentali, proprio per quello dicevo, ma anche molto coraggioso, molto rivelle nel cercare qualcosa di effimero, leggero. A questo proposito mi viene in mente un progetto che mi è piaciuto molto era il padiglione per l'esposizione itinerante dell'IBM del 1983 e per dare una data, va bene, nel 71-77 del Saint-Prompedou, quindi insomma, vabbè, 70-80, pensavo fosse più vecchio. In ogni caso, questo padiglione lo trovo anche molto interessante perché racchiude un po' l'idea di questa architettura molto leggera. L'utilizzo del legno, per esempio, il legno lamellare che si vedrà in tante occasioni e l'attenzione al dettaglio è incredibile, come ci siano dei disegni quasi a scala uno a uno per studiare la vita, veramente c'è un lavoro lì incredibile. La copertura, mi pare che fosse materiale plastico comunque, o in ogni caso, ne faceva parecchio uso, nonostante non sia un materiale architettonicamente convenzionale, però, è sempre il discorso della sperimentazione e di avere qualcosa di leggero perché qua, se avesse dovuto mettere il vetro, il pesava, gravava sulla struttura, la struttura doveva essere più grossa, dare un aspetto magari più pesante, c'era tutto, insomma, un ragionamento di questo tipo. Un'altra architettura di cui, insomma, vorrei farvi presente che è un'architettura che mi piace molto, anche se, insomma, pensandoci in un contesto molto naturale come quello della Nuova Caledonia, che è appunto il centro culturale in Papua Nuova Guidea, insomma, lascia un po', fa un po' impressione avere un intervento di quel tipo, soprattutto, ci sono diverse foto che prendono tutto lo skyline di queste strutture che è stato progettato, però lo trovo veramente interessante perché, come dicevo, c'è legno, si ripropone a delle, diciamo, a delle architetture tradizionali, ovviamente rielaborate in chiave moderna, c'è una base che molte volte non si vede, ma ospita le varie strutture, aule, dove c'è l'attività abbastanza parecchio razionale per poi avere degli elementi che contraddistinguono l'architettura. L'utilizzo del legno, sì, l'ho detto, ma non solo, sì, pensavo come struttura, come legno lamellare, ma anche come rivestimento, come ripetitività, sono degli elementi che porta avanti nel corso della sua architettura. Il concetto, appunto, anche di ripetitività, secondo me, è molto importante. Basta pensare che se si vedono dei vetri con, magari, avrebbero bisogno della metà delle divisioni, ma normalmente proprio usa una proporzione molto stretta e alta, quindi con una divisione molto netta e questo anche magari si può vedere nella scansione del rivestimento esterno di un muro, del tetto, all'importanza del tetto. Ecco, questa è una cosa molto importante di cui parlare. Menil Collection è un'abitazione in America, è stata una delle importanti architetture nei primi anni della sua storia architettonica e c'è un attento studio della luce e hanno studiato una forma della copertura, in quel caso era in cemento ma poi successivamente fa uso con delle lamelle o delle forme in acciaio che comunque andavano a schermare o a portare soltanto la luce non diretta ma indiretta ovviamente, quindi la riflessione della luce solare zenitale, quella dall'alto e questi elementi di queste coperture luminose vetrate si ritrovano in molte sue architetture. È un elemento molto critico perché portare la luce dall'alto ha i suoi pregi, i suoi difetti però come lo ho studiato, vengono studiate con queste appunto lamelle o forme che vanno a catturare la luce e sicuramente hanno un costo però probabilmente sono comunque molto più efficaci e a tal proposito per esempio mi viene in mente il suo studio di Genova che è un'intera vetrata è una copertura interamente vetrata che dà praticamente sul mare che poi viene quindi schermata da queste lamelle che ci sono al di sopra del vetro. Ovviamente c'hai diversi strati ecco qui per esempio c'ho davanti un'immagine dello studio e qui possiamo trovare l'elemento delle colonne in acciaio quindi anche la struttura mista le travi lamellare in legno che costituiscono la copertura poi il vetro come ho detto per far entrare la luce importante elemento naturale come il legno come la luce come e l'acqua per esempio in tanti progetti si trova semplicemente anche un bacino d'acqua per portare l'acqua comunque ovviamente per un'architettura di Renzo Piano va bene fare un discorso di questo genere però mi viene in mente non tutte le architetture o edilizia si può concepire in una una cosa del genere proprio perché ha un costo al costo il legno lamellare al costo mettere un vetro e al costo di schermare un vetro per cui un vetro trasparente diventa opaco dalla parte metallica però sicuramente Renzo Piano ormai può fare anche queste cose e ha i budget che glielo permettono e un'altra cosa che volevo dire che magari è interessante ma questo è un po' più architettonico e si vedono molti progetti in sezione anche i suoi disegni iscrizzi in sezione perché da un punto di vista architettonico le sue sezioni con molti livelli con lo studio della luce con l'integrazione anche del verde o di quel concetto che avevo detto nella puntata di Postdamer Plus per esempio sociale dell'integrazione con il contesto ecco questi sono sempre elementi molto ricorrenti nelle architetture di Renzo Piano e cos'altro dire per riconoscerlo quindi l'utilizzo del vetro tanto però devo dire in maniera un po' più consapevole elementi una scansione di elementi ripetuti molti casi ma non sempre c'è una certa simmetria la ripetizione degli elementi sicuramente appunto delle vetrate con queste proporzioni molto alte e strette legno lamellare il vetro sono elementi molto utilizzati pare di aver detto più o meno tutto sicuramente non tutte le architetture mi convincono a pieno ci sono quelle che lo rappresentano meglio quelle che secondo me appunto sono meglio riuscite altre peggio come per esempio mi viene in mente il Whitney Museum da New York che è esattamente molto recente e non capisco bene la forma il motivo di certe sue scelte o così è come anche il Centro Botin a Santander che sono delle architetture molto moderni molto dei giorni nostri ma che ecco non capisco bene quale sia l'idea mentre c'era un'idea abbastanza precisa di ricerca di leggerezza nell'uso dei dettagli dei materiali che più o meno si ripetono sempre a una scelta un po' dubbia ecco sicuramente i primi progetti nonostante abbiano ormai un'età secondo me rimangono i migliori e ultimamente forse per usare un po' di più o forse perché la direzione dello studio l'ha presa qualcun altro ma stanno andando in una direzione di cui mi convincono meno però in ogni caso resta ed è il nostro rappresentante il nostro come italiano rappresentante dell'architettura all'estero e continua a fare degli enormi progetti in tutto il mondo e lo ammiro lo ammiro veramente tanto come persona come idee appunto detto un rivoluzionario un ribelle ma nello stesso tempo comunque parla di bellezza parla di tradizione c'è anche il suo intento come senatore di senatore a vita della riqualificazione delle periferie un tema molto importante del gammendo nelle periferie quindi comunque sia un personaggio ammirabile ecco penso che sia tutto ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.